È stato ritrovato senza vita di Ilio Francesco Silveri, l'83enne di Paganica, scomparso lo scorso 28 dicembre. Questa mattina un cacciatore, nella strada tra Filetto e Camarda, frazioni dell'Aquila, località Ornatina, ha notato il corpo dell'uomo a terra nelle campagne. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, sarà l'autopsia ora a stabilire le cause del decesso, probabilmente un malore, complice anche il freddo di questi giorni. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. L'uomo, lunedì pomeriggio, si era allontanato da casa a Paganica intorno alle 17.30 e non vi ha fatto più rientro. Sono stati familiari a dare subito l'allarme ai carabinieri. Da un conoscente, Dilio Francesco Silveri, si era fatto lasciare vicino alla sua vecchia abitazione, inagibile, al centro del paese. Tre giorni di ricerche, condotte da vigili del fuoco, forestale, soccorso alpino e carabinieri senza esito, estese anche a Castelvecchio Subequeo, paese d'origine dell'anziano, fino a stamattina il tragico epilogo.